a sinistra e roby, vai gira gira no se stai di qua ti dà l'idea arrivi lì ti dà l'idea che io ho punto di no ho provato anch'io prima ma gli dà dopo quando apri ma perché è uguale alla mia io sono in solito da qua la tu ti sprivo io anche qua l'ho fatto in prima piano in primo bisogno di andare prima piano, devi usare il gas perché se apri sì ma farlo spegnere è un problema farlo spegnere è un problema ma non si spegne il montello lui si spegne spesso tutto dietro schiaccia dietro, bravo che calore vabbè caccioncino caccioncino passaggio passaggio devi tagli eh ditevi tagli eh ma la pompo devi tagli questo qua è salita tagli e va non si alza il salita è santo più facile che ci sia perché per l'inersia già ti porta su devi soltanto aiutarle faccia sognare noi non andiamo a casa eh bravo Lele bravo bravo Lele ti sento bravo eh ti sento bravo eh ti sento leggero ti metto un sacco di carino dietro un sacco di sale eh io non lo spero quanto per il vito quando nevi che ci metto un sacco di sale esatto se no mi metto i salsi come al contrario vedi Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.